Una ferita ancora aperta alle spalle, il futuro, la perfetta Letizia davanti agli occhi. La nuova chiesa in legno all'interno del giardino del monastero dei frati minori di Treglia consentirà il prosieguo del culto dopo il terremoto che ha gravemente danneggiato il santuario del Santissimo Crucifisso. Già dalle scosse del 24 agosto il santuario aveva subito danni tali da dichiararne l'inagibilità e di conseguenza la chiusura, con i fedeli del territorio che vedevano venire a mancare un luogo di riferimento anche per i paesi di Mitrofi. A ottobre poi la situazione è peggiorata, con le ancora più evidenti lesioni al campanile, alla cupola e alla facciata della struttura. Abbiamo subito come tanti altri una grossa ferita del terremoto, fin dal 24 agosto poi con le scosse del 26 e del 30 ottobre, però ecco qui, come vedete, è avvenuto un miracolo perché ci siamo tirati sulle maniche, come si dice, abbiamo puntato ovviamente sulla fede sulla speranza e il miracolo avvenuto però con l'aiuto di tutti, veramente con l'aiuto di tutti. L'ordine dei frati minori, così come la cittadinanza e l'amministrazione di Treia, in unione con tutto il Consiglio Comunale, non si sono tuttavia abbattuti. Prima un'attendo struttura di supporto, ora la chiesa in legno, simbolo di una solidarietà condivisa anche al di fuori dei confini regionali che non si è mai arresa. Questo lavoro è nato con la collaborazione locale, con la collaborazione di Daniele, che è il nostro collaboratore qui di zona e grazie alla disponibilità di Padre Luciano e del sindaco, il quale hanno avuto necessità di fare questo intervento, è stato un intervento che è nato dalla volontà della comunità, con la forza della comunità e io ringrazio di aver avuto questa occasione per poter eseguire questo lavoro nei termini, nei tempi e nell'architettura richiesta dall'ingegnere Danilo Carlini, il progettista di questa struttura. Per me è stata una grande soddisfazione aver fatto parte a questa, chiamiamola, impresa. È stata una sfida e a noi piacciono le sfide e quindi sono estremamente soddisfatto aver partecipato.